Ilari Blasi vola in Thailandia con Bastian, dettagli della vacanza e 5 stelle. Prima vacanza vera per Ilari Blasi e il nuovo compagno Bastian. La conduttrice TV è partita nelle ultime ore per la Thailandia dove festeggerà Capodanno insieme al fidanzato che è con lei ormai da qualche mese. I figli sono rimasti a Roma, nei prossimi giorni anche Francesco Totti, con Loemi. Partirà per una meta al caldo Lari Blasi e Bastian, ecco dove alloggiano i dettagli del viaggio di Lari e del nuovo fidanzato non sono stati ancora resi noti. Si sa solo che sono arrivati oggi a Bangkok che alloggiano in un hotel con vista sulla città da oltre 800 euro a notte. Torneranno la settimana prossima, al termine di quella che sarà la prima vera lunga vacanza da fidanzati.